Il Consiglio Comunale di Viareggio ha approvato il rendiconto del 2022. 14 voti favorevoli, due contrari, un astenuto. Un bilancio che segna un risultato di amministrazione di quasi 4 milioni di euro utilizzabili per ulteriori investimenti. I numeri presentati dall'assessore alle finanze Laura Servetti mostrano un saldo cassa di 96 milioni. Somme che serviranno a finanziare i lavori pubblici nel corso dei prossimi anni e a mantenere una quota consistente per la gestione corrente. Il Comune vanta 133 milioni di crediti da riscuotere. 33 milioni derivano da partite ritrasferite dall'organismo straordinario di liquidazione. Tutto il resto invece da un incremento della riscossione in termini di recupero e evasione. Abbiamo lavorato per ridurre in maniera importante i tempi per l'invio degli accertamenti, ha spiegato la Servetti. Adesso in un paio di anni riusciamo ad avvisare i debitori, un tempo utile per rendere più effettivi gli incassi. Quanto invece ai residui passivi, ovvero debiti da pagare, siamo a quota 46 milioni. Per il sindaco del Ghingaro si tratta di un bilancio trasparente, prudente e soprattutto solido. La Lega, Espazio e Progressista hanno votato contro. Fratelli d'Italia non ha partecipato al voto, contestando all'amministrazione il fatto di aver consegnato ai gruppi la relazione delle visori dei conti sul bilancio solo 24 ore prima del voto in aula.